Ma tu che ti metti a fare? Che devo fare? Farò il mio lavoro. C'è una sera dalla Dispori, il matrimonio a cabena. Poi quest'anno il Capodanno lo faccio all'amnesia. I pizza? No, a Campo dei Carni, al centroanziani. Si chiama amnesia perché sti vecchi non si ricordano un cazzo.